Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro DarkHouse92 Oggi siamo qui perché come da voi richiesto vi sto portando appunto il video come impostare il 4 terzi Quindi la risoluzione 4 terzi su Fortnite E' molto semplice questo video durerà veramente poco sarà un video molto breve Allora dovete fare semplicemente qua sotto per chi ha Windows 10 ovunque nella barra del cerca Dovete scrivere percentuale app data percentuale ve lo faccio vedere App data percentuale e cliccare subito subito invio Vi riporterà subito subito in una cartella che vedete questa qua Dove dovete cliccare qui su app data ok dovete ritornare indietro quindi App data è andare su local Local andare a cercare la cartella Fortnite Eccola qui Fortnite game Cliccare su save Andare su config Windows client Game user setting Cliccarci e andare a precisamente Oddio che cacchio ho fatto ok perfetto E andare io adesso sposto un po' più in qua così almeno ok E andare precisamente qui vedete Resolution X Resolution Y Resolution Scusate Y non lo dovete toccare dovete mettere solo Resolution X Io in questo caso ho messo 1440x1080 ok Qua stessa cosa qua sotto 1440x1080 Scendendo giù scorrendo giù c'è qua di nuovo sempre giù Qua in questo caso c'è scritto 1920 qua Però dovete cambiarlo quindi lo rimuovete il 1920 C'è scritto così 1980x1080 che cacchio ne so quello che è Voi lo dovete mettere 1440 così Poi se non sbaglio non ci dovrebbe essere più nient'altro Eccolo qua e qua sotto ce n'è un altro Che dovete comunque rinominare mettere 1440 e basta il 1080 sotto già c'è scritto Dopodiché andate qui cliccate la X e vi dirà salva tu salvi ok Ovviamente sempre la stessa cartella Quindi io in questo caso non lo salvo perché già ce l'ho fatto appunto Ok non salvare Poi cliccate col tasto destro su Game User Settings E spuntate solo lettura Questo qua ok Così vi darà la possibilità con la modifica della risoluzione 4 terzi Di fare molti più fps di quanti ne fate già Io ragazzi vi ringrazio per aver visto questa guida Spero che questa guida vi sia stata d'aiuto Anche perché per molte persone di voi lo voleva sapere Quindi ve lo portate in video Un bacione in mezzo dal vostro Dark House 92 Noi ci vediamo prossimamente con nuovi video, nuovi live E vi informo Vi informo che giorno 4 ottobre partirò per andare a Milano da storto Ma non troppo Noi ci vediamo prossimamente Vi voglio bene ragazzoni Un bacio a tutti Bella Ciao